Finito? E dai, che sei in vacanza, sei calmo, è successo, è successo. Guarda, mio figlio, l'altro giorno è riuscito a fare una cosa che io in 30 anni di matrimonio non sono stato capace di fare. E direi tu, che ha fatto? Che ha fatto? E' scappato di casa. E' un piattagno. E ci vuol coraggio, non ha la vita, non ha la tre.